Ben ritrovati ancora con una nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano l'immigrazione. Sono arrivati a Bari gli 86 migranti giunti a bordo della nave Ocean Viking soccorsi nei giorni scorsi a largo della Libia. 68 sono i minori non accompagnati ma sentiamo i dettagli nel servizio. Sono sbarcati nelle scorse ore al porto di Bari gli 86 migranti a bordo della Ocean Viking, nave dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranea. Si tratta per la maggior parte di migranti minorenni di origine gambiana, 70 di età compresa tra i 15 e i 17 anni di cui 68 minori non accompagnati, 16 gli adulti. Le loro condizioni di salute sono buone, solo 8, 2 adulti e 6 minorenni saranno portati in ospedale per maggiori controlli. Dopo lo sbarco i migranti sono stati accompagnati in Pullman verso il centro di accoglienza cara di Bari Palese che per molti sarà solo la prima destinazione in Puglia. Gli adulti infatti resteranno a Bari mentre i minori saranno smistati in centri governativi e centri SAI, sistema di accoglienza e integrazione a Taranto, Brindisi, Foggia e Lecce. Sono scesi come al solito per primi i migranti che necessitano di uno screening sanitario più approfondito per poi raggiungere eventualmente gli ospedali che hanno organizzato anche il presidio qui in banchina per verificare se occorre il loro ricovero o meno. Poi proseguirà lo sbarco con tutti gli altri migranti che sono stati comunque già controllati relativamente alle condizioni sanitarie a bordo dall'ufficio di sanità marittima. Le operazioni dopo la prima pre-identificazione qui al porto proseguiranno per il fotosegnalamento al cara come già abbiamo detto e quindi poi potranno raggiungere le destinazioni individuate dal Ministero dell'Interno. Proseguiamo con la cronaca. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo il tratturo bovino che da Cerignola porta a Stornara nel Foggiano. L'incidente ha coinvolto un utilitario e una cisterna che trasporta latte. Secondo una prima ricostruzione la vittima era la guida dell'auto che per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con l'altro mezzo. Restiamo a Foggia con la cronaca. Un giovane si è introdotto in un appartamento per commettere un furto ma scoperto è stato sequestrato e seviziato per alcune ore. Quattro gli autori del fatto, due sono stati arrestati, due invece sono ancora ricercati. È entrato in un appartamento nel centro a Foggia per commettere un furto ma è stato sorpreso dal proprietario che con l'aiuto di tre suoi amici lo ha chiuso per alcune ore in una stanza sottoponendolo a sevizi e riprese con il telefono cellulare. La vittima è un 26enne di Foggia, probabilmente tossicodipendente. Due dei quattro autori delle torture di 21 e 26 anni, entrambi con precedenti per droga e uno di loro per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di sequestro di persona e lesioni personali. Gli altri due sono invece ancora ricercati. Ad avvertire la polizia è stata la mamma del giovane che, preoccupata dal fatto di non avere notizie del figlio da alcuni giorni, ha deciso di sporgere denuncia. Nel giro di poche ore gli agenti lo hanno rintracciato nell'appartamento dove, secondo quanto hanno appreso, era già stato altre volte sempre per sottrarre somme di denaro. Il giovane sarebbe riuscito a entrare perché, secondo il suo racconto, aveva trovato le chiavi smarrite dal proprietario. Nelle precedenti occasioni in cui si era introdotto nell'appartamento, il giovane non aveva trovato nessuno. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, i quattro avrebbero chiuso il giovane in una stanza dell'abitazione, sottraendogli il cellulare e facendolo sedere sul pavimento, utilizzandolo come poggiapiedi, picchiandolo, scarnendolo e filmando il tutto. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno ritrovato la vittima con ecchimosi in varie parti del corpo e il volto tumefatto per le percosse subite. La polizia sta ora indagando per verificare la provenienza del denaro che è stato trovato in casa e per stabilire se l'appartamento venisse utilizzato come base logistica per lo spaccio della droga. Non doversi procedere per morte dell'imputato. Si è chiuso così per la morte di Silvio Berlusconi il processo escort in corso a Bari, nel quale l'ex premier era imputato per induzione a mentire, perché, secondo l'accusa, aveva pagato le bugie dette dall'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, IPM, che indagavano sulle ragazze portate a pagamento nella residenza privata dell'allora presidente del Consiglio tra il 2008 e il 2009. Berlusconi era stato rinviato a giudizio nel novembre del 2018. Andiamo ora in Basilicata. Si è discusso di prospettive e sviluppo per la regione lucana durante l'evento che è stato organizzato dalla Segreteria regionale di azione a Potenza. Mettere in luci iniziative e progetti identitari, nuove opportunità di sviluppo che possono essere sfruttate e questo è l'obiettivo dell'evento che è stato organizzato a Potenza dalla Segreteria regionale di azione Basilicata, un'occasione per affrontare diversi temi di rilevanza strategica, tra cui innovazione tecnologica, valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali e della cooperazione, sviluppo delle infrastrutture, agricoltura sostenibile e nuove prospettive di lavoro. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna territoriale di ascolto e coprogettazione del programma di governo Basilicata domani che ha preso il via lo scorso ottobre all'evento. Hanno partecipato i vertici del partito in regione, tra questi il segretario regionale Donato Pessolano e il consigliere regionale Marcello Pitella. Tra i focus del dibattito, uno è stato dedicato al settore dell'automotive con testimonianze di imprenditori del comparto. L'obiettivo dell'evento è stato quello di promuovere un dialogo costruttivo e creare sinergie tra tutti gli attori interessati allo sviluppo della Basilicata. Il futuro della Basilicata parte dalle imprese perché sono la spina dorsale della Basilicata. Lo diciamo dal 2019, abbiamo fatto tanti confronti, stiamo girando il territorio per raccogliere le istanze e coprogettare insieme alle imprese. L'azione è consapevole di quello che oggi è, di quella che è la forza elettorale che ha. Sicuramente noi saremo protagonisti alle prossime regionali e ci confronteremo con tutti per capire il luogo giusto dove ci sono persone e programmi giusti per proseguire il cammino insieme. La necessità che c'è in questa regione è costruire una identità, un futuro, un pensiero lungo, una prospettiva, ovviamente affrontando i problemi reali dei cittadini lucani. È necessario, indispensabile, fondamentale, che si viaggi insieme e si condivida una progettualità. Non c'è progetto e dobbiamo metterlo insieme in campo e dobbiamo rilanciare il futuro di questa regione. La regione Basilicata investe oltre 2 milioni di euro nel programma annuale antincendio con un elicottero pronto a intervenire e un bollettino quotidiano per monitorare l'evoluzione dei focolai. Siglata questa mattina a Potenza, una convenzione. È stato firmato un protocollo che credo sia un protocollo molto importante perché non solo è la tutela del patrimonio boschivo che occupa gran parte del nostro territorio e quindi va difeso, ma va difesa anche l'ingolumità dei cittadini in un momento in cui normalmente si sviluppano gli incendi come il periodo estivo. Dal 15 luglio a fine agosto un elicottero della protezione civile della Basilicata interverrà entro mezz'ora dalla segnalazione per spegnere gli incendi boschivi. Questo è uno degli elementi chiave del programma annuale antincendio della regione che prevede un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro. Ogni giorno alle ore 18 la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile emetterà un bollettino che consentirà ai comuni di seguire l'evoluzione di eventuali focolai scoppiati sul proprio territorio. La nuova convenzione è stata firmata dal Presidente della Regione Vito Bardi dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro rappresentante del Ministero dell'Interno e dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Vincenzo Ciani. Abbiamo sottoscritto una convenzione che prevede la dislocazione sul territorio di fino a 6 squadre aggiuntive oltre agli equipaggi dei DOS che sono i direttori operativi del soccorso e che ci consente di potenziare adeguatamente il dispositivo ordinario di soccorso pubblico. L'accordo mira a rafforzare e coordinare gli interventi di contrasto agli incendi con le squadre dei volontari e delle guardie forestali. In base alla convenzione il Corpo dei Vigili del Fuoco metterà a disposizione 6 squadre, ciascuna composta da 5 unità. Saranno individuate 6 aree omogenee in relazione a parametri geografici, climatici e vegetazionali. Le squadre dei Vigili opereranno in queste aree sia per la vigilanza sul territorio sia per rispondere alla pericolosità indicata nel bollettino quotidiano. Contenti anche perché in qualche modo si riesce ad integrare un sistema che è quello oramai strutturato da tempo che però qualifica anche il lavoro della Sala Operativa Unificata della Regione con la presenza di Vigili del Fuoco che hanno nel DNA una competenza specifica su questo tipo di interventi. Sicurezza nei punti nascita se ne è discusso a Trani nel corso di una tavola rotonda. La sicurezza nei punti nascita è stato il fulcro di una discussione che si è svolta a Trani durante la quale sono stati approfonditi vari aspetti del tema come idee per la governance e la gestione dei rischi. Responsabile scientifico della discussione è stato Danny Sivo dirigente responsabile dell'unità operativa sicurezza e sorveglianza dell'ASLBAT. Il focus è comprendere che dobbiamo parlare di sicurezza e non più di sicurezza perché le possibilità di incorrere in un errore sono definite da una molteplicità di variabili davvero elevata possono essere problemi di natura organizzativa del lavoro dalla carenza di personale da problemi strutturali da errori che possono intervenire sempre perché anche nell'esempio che ho fatto anche il più virtuoso dei musicisti una volta nella sua vita sbaglierà a produrre una nota nel suo strumento. Noi dobbiamo sapere che esiste la posca dell'errore e dobbiamo verificarli prima e noi cerchiamo di fare in modo che l'errore venga controllato prima che possa verificarsi. E restiamo nella provincia BAT perché a Barletta sono iniziati i lavori per la realizzazione del secondo fronte della stazione ferroviaria. Nelle scorse ore il sopralluogo dei tecnici di ferro tramviario. Al via Barletta i lavori per la realizzazione del secondo fronte della stazione ferroviaria a partire dal 3 luglio e fino al 20 di agosto ci saranno restrizioni alla circolazione con la chiusura di via Veneto. Nei prossimi 40 giorni si procederà quindi alla demolizione del muro di cinta dell'area ferroviaria per creare una nuova recinzione all'allargamento della strada e poi alla creazione di nuovi stalli per gli autobus con relativa zona di interscambio. Stiamo andando avanti con i lavori come da programma abbiamo completato le strutture del fabbricato viaggiatori piano interrato, piano terra e copertura abbiamo eseguito le rampe per disabili le rampe con le scale abbiamo cominciato ad impostare il muro di recinzione nuovo perché il muro di recinzione nuovo sarà il limite della nuova strada nel senso che noi allarghiamo la strada attuale di circa 10 metri per consentire il parcheggio dei Pullman perché qua ci sarà il parcheggio dei Pullman sarà un parcheggio di interscambio Pullman Ferrovia Miglioreremo la pedonabilità della città per collegare questa zona di via di Barberini-Patalini con il centro città avverrà che chiuderemo la strada un tratto di via Veneto per consentire la realizzazione dei sottoservizi collegamenti alla Fogna chiaramente abbiamo previsto una viabilità alternativa che è quella di Viale Marconi L'università e la prefettura di Bari insieme per la ricerca in tema di rapporti giuridici tra stati e confessioni religiose è sottoscritto un nuovo protocollo di collaborazione scientifica Creare una piattaforma al servizio di prefettura, istituzioni e università in materia di rapporti giuridici tra Stato e confessioni religiose con particolare riferimento al fenomeno migratorio è l'obiettivo dell'accordo sottoscritto tra Università degli Studi di Bari Aldomoro e la prefettura partirà dunque una collaborazione fondata sulla diffusione di dati scientifici, formativi, documentali e informativi i cui esiti confluiranno sul sito Rete, religioni e territorio che sarà poi a disposizione di tutti coloro che sono interessati all'aggiornamento e al rispetto delle norme a tutela di privacy e riservatezza L'amministrazione statale pubblica mette a disposizione dell'Accademia dell'Università i dati di cui dispone i dati che noi raccogliamo di cui disponiamo per la nostra attività istituzionale sia in campo dell'immigrazione sia nel campo degli enti ecclesiastici li mettiamo a disposizione perché l'Università li elabori ne renda una lettura del territorio più completo e li mette a disposizione dei giovani perché possano formare oggetto di studio e di progetti di sviluppo Partirei dal tema che è importante l'immigrazione e le questioni religiosi sono al centro delle questioni di geopolitica nel mondo L'Università è presente al fianco della Prefettura per un lavoro che cerchi di rendere sempre più scientifico l'approccio guardate che il tema delle religioni che è stato sottovalutato nei decenni precedenti e invece allude anche alla comprensione di culture diverse dalla nostra che non trovano integrazione proprio perché non si conoscono quindi l'Università ancora una volta al fianco di altre istituzioni propone un percorso di conoscenze di approfondimento perché i problemi possano essere più che risolti affrontati prima che diventino questioni nazionali Bilanci solidi e affidabilità finanziaria Confindustria Basilicata si congratula con le 5 imprese associate premiate quest'anno a Lecce nell'ambito di Industria Felix Nel contesto delle imprese più competitive del mezzogiorno le aziende associate a Confindustria Basilicata si sono distinte anche quest'anno 5 società di capitali di Lucane sono state insignite dell'alta onorificenza di bilancio nell'ambito del 52esimo evento Industria Felix svoltosi nella prestigiosa cornice della Caia Golf Resort di Lecce per la Basilicata questa rappresenta la quinta edizione dell'iniziativa che premia annualmente le realtà produttive più virtuose per le loro capacità gestionali affidabilità finanziaria e sostenibilità l'evento organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved l'Università Luis Guido Carli l'associazione Cultura Industria Felix e con il sostegno di Confindustria per la provincia di Potenza è stata premiata la Com SCPA un'azienda specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione in quella di Matera sono state riconosciute Cascione Autotrasporti SRL operante nel settore dei trasporti logistica supply chain e stoccaggio Ego Italiano SRL che produce divani poltrone e complementi d'arredo Inpes Service SPA che si occupa di progettazione costruzione e manutenzione di impianti elettrostrumentali industriali e civili e MW Extrusion SPA specializzata in fonderia estrusione e verniciatura dell'alluminio finiture superficiali e lavorazioni meccaniche il premio per Giuseppe Carriero direttore generale di Confindustria Basilicata rappresenta anche un importante stimolo per le imprese a fare sempre meglio in un momento delicato in cui è particolarmente importante alimentare un clima di fiducia imprenditoriale attraverso il contributo del nostro sistema E per il Sonic Park di Matera arriva l'Occhè dalla Regione Basilicata per l'utilizzo di Cava del Sole e abbiamo intervistato l'assessore all'ambiente latronico Il Sonic Park Matera si farà a Cava del Sole la conferma arriva nel primo pomeriggio direttamente dall'assessore all'ambiente della Regione Basilicata Cosimo Latronico che rassicura sulla chiusura dell'iter autorizzativo che permetterà di utilizzare il sito e quindi confermare il fitto calendario di eventi la cui data di apertura è prevista il 15 luglio con il concerto dell'artista internazionale Mica La Cava del Sole già da tempo è stata diciamo una piattaforma un sito per eventi artistici anche quest'anno c'è stata una richiesta per l'organizzazione di un festival importante per la celebrità anche degli artisti che verranno c'è stato un lavoro dell'ufficio compatibilità ambientale col comune di Matera con gli organizzatori una istruttoria molto severa rigorosa è stata concessa una valutazione di incidenza ambientale e all'interno di quella autorizzazione ci sono anche delle deroghe che permetteranno questa è la notizia la celebrazione del festival quindi la città di Matera non solo ma la regione Basilicata si accinge alla luce di questa autorizzazione ad ospitare un evento di livello internazionale torna a Bari lungomare di libri la manifestazione letteraria giunta alla sua terza edizione trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto la fantasia è un posto dove ci piove dentro così scriveva Calvino nelle sue lezioni americane ed è da qui che prende spunto il tema della terza edizione di lungomare di libri la manifestazione letteraria organizzata dal salone internazionale del libro di Torino è promosso dal comune di Bari lungomare di libri è un progetto che abbiamo scritto e costruito insieme insieme ai librai baresi insieme agli editori pugliesi alla regione e alla città ovviamente ed è finalmente la terza edizione devo dire che è un evento in crescendo quindi siamo molto soddisfatti sarà una grande festa quest'anno si allarga persino con l'esposizione fino a Largo Vito Mauro Giovanni 500 metri e 35 casette di appunto la più grande libreria a cielo aperto della città quasi 50 ospiti in tre giornate per più di 30 appuntamenti dedicati ai grandi e più piccoli tra la terrazza del Fortino di Sant'Antonio Largo Vito Mauro Giovanni Piazza del Ferrarese e il Mercato del Pesce sulla muraglia nel tratto compreso tra Piazza del Ferrarese e Largo Vito Mauro Giovanni torna il caratteristico serpentone con 35 casette complessive che ospitano 23 librerie di Bari e della città metropolitana e 38 editori pugliesi associati all'Associazione Pugliese Editori portare l'esperienza delle librerie che lavorano tutto l'anno sui territori sul lungomare con le stesse atmosfere con gli stessi colori con gli stessi profumi è un'emozione l'occasione per conoscere meglio il luogo che ci ospita è questa bellissima città che accoglie una manifestazione e che secondo noi è un'occasione importante e preziosa di conoscenza e di aggregazioni per l'occasione Piazza del Ferrarese ha ospitato una grande azione di pittura a cura del Dipartimento Educazione del Castello di Vivoli Museo d'Arte Contemporanea a Matera il palombaro lungo intitolato Attonio Acito è arrivato il via libera dalla Prefettura La Prefettura di Matera ha autorizzato ufficialmente l'intitolazione del palombaro lungo di Piazza Vittorio Veneto al compianto architetto materano Mattia Antonio Acito meglio conosciuto come Tonio scomparso recentemente e autore dell'importante sito turistico Cittadino La proposta era partita dall'iniziativa del cittadino Alberto Giordano amico fraterno di Acito che aveva promosso una petizione raccogliendo oltre mille firme un'iniziativa accolta dal sindaco di Matera con un primo passaggio in giunta e poi l'ok di questura e deputazione di storia patria Celle restata anche la risposta della Prefettura pertanto si potrà procedere altrettanto rapidamente alla cerimonia ufficiale con la disponibilità di Giordano L'architetto Mattia Antonio Acito si legge nelle motivazioni della Prefettura ha rappresentato una fra le più vivaci intelligenze che hanno disegnato spazi e opere nella città aggiungendo valore e prestigio internazionali La sua carriera è stata costellata di innumerevoli opere importanti non solo nella città di Matera tra le quali proprio il palombaro lungo ma la sua attività è stata intensa anche a livello internazionale con riconoscimenti di grande prestigio tanto che lo specifico caso assume particolare valore simbolico di ricordo collettivo e riconoscenza e in virtù della petizione popolare può essere consentita la deroga al limite temporale nell'ambito delle normative di settore al via la seconda convention Puglia capitale sociale 3.0 il programma della regione Puglia per il terzo settore Mila mira una collaborazione più stretta tra gli enti l'obiettivo è quello di creare una rete tra gli enti del terzo settore attivi sul territorio pugliese per facilitare il rapporto tra gli stessi e a beneficio dei cittadini al via la seconda convention regionale Puglia capitale sociale 3.0 organizzata dal dipartimento welfare della regione Puglia all'incontro c'erano anche l'assessore al welfare della regione Rosa Barone e la direttrice del dipartimento welfare Valentina Romano stiamo alla presentazione dei progetti della prima finestra progetti che in tutta la Puglia hanno già sviluppato tanta energia tanta economia sociale economia anche relazionale quindi oggi stiamo in qualche modo raccogliendo e ascoltando quanto appunto sui territori è stato fatto facendo confrontare le diverse associazioni in modo da poter creare una rete tra le diverse associazioni della provincia o comunque un motivo di confronto ma anche di crescita per poter meglio inserirsi e incidere nel territorio con progetti sempre più innovativi più adatti e consoni alle vere esigenze dei cittadini le varie associazioni che hanno partecipato all'avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 devo dire in maniera non solo numerosissima ma con progetti di grandissima qualità quindi oggi esiste un ulteriore obiettivo del dipartimento che far sì che queste progettualità dialoghino tra di loro anche al fine di poter in un futuro avviso o in future iniziative poter realizzare sul territorio progetti che si integrano affinché le progettualità possano dare ancora maggiore utilità ai cittadini una cosa è indubbia che il terzo settore è il motore del sistema sociale pugliese Il giudice Rosario Livatino martire di giustizia esempio di legalità per le nuove generazioni è il tema proposto dall'Università di Foggia esposta nell'aula magna di economia la reliquia del giudice beato ucciso dalla mafia Questa è la reliquia di una parte della camicia insanguinata indossata al momento del suo assassino da Rosario Livatino il giudice beato esempio di legalità per le nuove generazioni la sua figura è stata promossa dall'Università di Foggia in collaborazione con la pastorale giovanile vocazionale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio perché un giudice martire di giustizia può essere di esempio in provincia di Foggia terra di presenze mafiose la giustizia è verità e quindi gli operatori della giustizia se donano la loro intelligenza la loro esperienza donano la loro storia di vita per la giustizia sono i testimoni della verità Rosario Livatino fu ucciso a 37 anni per mano della mafia il 21 settembre del 1990 un esempio di dedizione rigore e passione è un eroe da imitare? è beato il paese che non ha bisogno di eroi nel senso che si spera che non ci debbano essere eroi di questo tipo però se ce n'è bisogno certamente da imitare la sua coerenza il suo impegno in quella pochi anni che ha avuto di magistratura si è distinto per la sua straordinarietà come magistrato quindi straordinario come uomo come magistrato come santo quindi sicuramente da imitare sperando che non ci sia bisogno di eroismi nel nostro paese ed è ai giovani che va fatto riferimento in particolare per l'importanza della lotta ai fenomeni mafiosi attraverso la storia di Rosario Libatino esempio di fede e giustizia lui è stata una persona che ha sempre avuto una grossa fede ho letto che frequentava sempre la parrocchia del suo paese di Canicattì stava sempre in mezzo ai giovani e in mezzo alla parrocchia una grossa fede che l'ha aiutato ad andare avanti parliamo ora di sport Molfetta sarà la sede degli assoluti di atletica che si svolgeranno dal 28 al 30 luglio ci saranno anche i campioni olimpici Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi ci saranno anche gli ori olimpici Marcel Jacobs Gianmarco Tamberi Massimo Stano e Antonella Palmisano a Molfetta dove tra il 28 e il 30 luglio si svolgeranno i campionati italiani assoluti individuali su pista di atletica leggera nel nuovo stadio Cozzoli sarà la prima volta a Molfetta la seconda nel sud Italia con loro altri 800 atleti di tutte le specialità tra cui tutti quelli che si stanno preparando a partecipare ai mondiali di Budapest di agosto e alle olimpiadi di Parigi 2024 durante i campionati a partire da questa edizione ai vincitori della gara maschile e femminile sulla distanza dei 200 metri sarà assegnato il trofeo Pietro Mennea in memoria della leggenda dello sport azzurro in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa e a maggior ragione considerando che gli assoluti tornano a disputarsi nella sua terra la matapuglia abbiamo pensato che fosse giusto e significativo dedicare a Pietro le gare dei 200 metri che si terranno allo stadio Cozzoli così ha dichiarato il presidente della FIDAL Stefano May dopo Boston e Parigi farà tappa domenica a Polignano a mare la gara internazionale di tuffi Red Bull Cliff Diving World Series attesi in Puglia per l'evento che segna il decimo anno dell'appuntamento in provincia di Bari i vincitori delle ultime due tappe l'australiana Rihanna Niflan e il rumeno Constantin Popovici che si aggiungeranno ad altri atleti internazionali per confrontarsi dalle piattaforme di 27 e 21 metri che verranno posizionate su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare due le wildcard azzurre in gara si tratta di Elisa Cosetti classe 2002 ed Andrea Barnabà classe 2004 e con queste notizie di sport noi concludiamo qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito